ecco io poi purtroppo quell'anno nel 74 in un circuito dopo il giro caddi caddi e penso che quella caduta ha condizionato molto la mia carriera e rupi l'omero portai il gesso per tre mesi quindi la mia stagione fini fini lì e quindi parti molto forte quell'inverno e mi presentai subito la prima gara in forma strepitosa e riuscì a vincere subito la prima gara qua c'è il gruppetto degli inseguitori ricordo anche che caddi caddi a 6 7 chilometri ma poi mi rialzai e riuscì comunque a vincere